Come abituarci, o meglio, come educarci a ringraziare? Alla gratitudine, è la domanda che un nostro telespettatore ci ha posto. Educare è un'arte del cuore, ma ringraziare è senz'altro un dono del cuore, ma di un cuore educato a ringraziamento. Come educarci a ringraziamento? Come educare il mio cuore a ringraziamento? Io penso che il cuore di per sé ha dentro questa parola grazie. E' che noi da parte nostra dobbiamo sforzarci di far battere il nostro cuore all'unisono con questa parola. Grazie, gratitudine. Allora, occorre educarsi ed educare al ringraziamento. Spesso rifletto su come noi oggi parliamo, su come noi oggi ci poniamo nei confronti delle persone. E per esempio io ricordo che quando ero più piccolo, se mi incontravo con un amico, dicevo ci vediamo domani a Dio piacendo. E oggi lo dico sempre di meno perché lo sento sempre di meno. Cioè viene appunto meno questa idea del dono, della providenza. Oppure oggi sempre di meno, ma parlo soprattutto di noi credenti, di noi cristiani, nel nostro linguaggio viene meno la parola grazie a Dio. Prima ogni cosa si diceva grazie a Dio. Come stai? Bene, grazie a Dio. Domani cosa fai? Domani se Dio vuole io parto e grazie a Dio rivedrò i miei figli, per esempio. Questa parola grazie a Dio oggi è sempre meno presente nella nostra vita e anche nel nostro linguaggio. Allora che cosa educhiamo? A chi educhiamo soprattutto i nostri ragazzi? E non ci dobbiamo meravigliare quando attorno a noi vediamo sempre meno gratitudine. Allora piccoli gesti in famiglia, lo ripeto, in famiglia per educarsi ed educare all'ingraziamento. La mattina, insieme, prima di fare colazione, laddove si fa colazione, un bel segno di croce, come dice il mio padre confessore, e poi dire grazie Signore per il dono di questa giornata. Se lo si fa, i figli crescendo lo faranno anche nella loro camera, quando si alzano e apriranno la finestra, salvo che oggi anche i genitori non gli vanno a aprire le finestre, e sapranno dire grazie, sapranno dirvi grazie. Quanto mi fa male vedere tanti genitori tristi, perché dopo che hanno donato la loro vita per i propri figli, molte volte mi dicono nemmeno grazie mi hanno detto. E' vero, fa male, e non voglio, come dire, generalizzare, ma dovremmo anche chiederci come io ho educato mio figlio al ringraziamento, al dire grazie. Perché i figli sono sempre il prodotto, nella maggior parte dei casi, di quello che siamo noi. Educhiamoci a dire grazie. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!